Ehm, perché sta tutto quel casino lì, tutta quella gente? Te l'hanno detto, no? Quell'uomo che è stato arrestato. Eh, ho visto uno arrestato. Ha ucciso la moglie a cornate. Oh! Ha fatto di corna, l'ha uccisa la moglie. Vabbè, ma si conosce il motivo di questo folle gesto? Grazie.